Vedete che prendetevi visto perché non ne pensiamo più di questa storia, abbiamo già fatto lo sfidimento e abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta, li abbiamo portati qua. Quindi capite che la loro importanza di essere qua per noi è tantissima, per noi è una vittoria, una vittoria soprattutto per loro. E volevo raccontare questa cosa per far capire l'importanza dei ragazzi. Per me lei è un'eroina della resistenza non violenta palestinese, ha fondato il Centro per Donne di Assira e neanche la Presidente e per me è un modo di resistenza non violenta che quello, perché in un paese che vogliono mandare via è un modo per resistere e sono molto felice che sia qua. A chi non vado al centro. Vi introduco un altro invitato che veramente sono felice che non sia qua, perché è un altro grado alla resistenza non violenta palestinese, anche se lui come gli altri due non sono dei politici, perché non sono di quale fare le conferenze, sono tre palestinesi molto semplici, infatti solamente sono resistenti, tutto qua. Sono molto contenta di lui aver accompagnato sua moglie, Abdurana. E il terzo invitato, avete visto delle immagini di un fotoreporter, lui è un fotoreporter volontario e fa quello che fa da Kufra Kadoum perché ha a cuore la resistenza e ha a cuore il strillaggio. Il suo lavoro lo svolge anche, sempre il titolo di volontariato per Pizzelen, che è una grossa associazione israeliana che vuole la liberazione della Palestina. Lui è un insegnante, ha fornito dei video, ha portato per fare il film, ma i suoi video sono molto importanti perché grazie ai suoi video, come avete visto il filmato del cane, si vincono dei processi perché sono delle esperienze importanti. Quindi non solo per Pizzelen, ma anche per altri video, ha dimostrato che i palestinesi erano innocenti in alcune situazioni, quindi sono molto contenta di essere qui. Lui è un daicadoum e di Kufra Kadoum. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. qui per l'incontro con noi è molto importante per loro incontrarli. Noi veniamo da pillaggi palastinesi relativamente piccoli, sia di numero di popolazioni che di estensione. Però questi pillaggi stanno affrontando l'attacco da parte degli israeliani. Sopriamo dalla presenza delle colonie israeliane illegali che stanno rubando le nostre bene. Questi colonie ci causano dei problemi quotidiani, ci attaccano e attaccano le nostre case. Per esempio un villaggio come il nostro si chiama Asira. C'è una colonia israeliana illegale messa lì che si chiama Asar. Considerate le lezioni unite come la più pericolosa colonia in Cisjordania. C'è un gruppo di donne del villaggio. 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 Solo di coloni. Bambini e da donne subiscono di stress totevole. I bambini soffrono incuni, la loro rezza del corso scolastico è diventato tantissimo e sono diventati anche aggressivi per loro Mentre le donne che vogliono accogliere le loro bambini e far sentire la sicurezza ai loro bambini che non c'è nessuno che dà la sicurezza a loro e quindi di continuo la mamma è sotto un pressione molto forte La cosa che migliora ancora la situazione è la situazione economica Per questo abbiamo deciso di creare un gruppo che prende cura dei bambini e della donne Per i bambini non c'è un posto dove giocare o passare il tempo Passano il loro tempo tra la scuola e la strada Per questo nel centro accogliono bambini dopo scuola Per questo nel centro accogliono bambini e la scuola Per il centro accogliono bambini e la scuola Per il centro accogliono bambini e la scuola Per il centro accogliono bambini e la scuola Attualmente nel centro ci sono 100 bambini Lavorano su vari programmi tipo Insegnano la musica, il canto, suonare la gitarra Lavori artistici Per lezioni di lingua inglese Prendiamo un giro in viaggi per divertirsi Per cambiare estivi ρι немного Per i bambini Per le bambini Bambini Sempre nel processo di sviluppare Suggestiva Per i bambini Cerita a parte di progetti che hanno l'obiettivo di dare sopporto sia economico, sociale e culturale alle donne C'è anche quelle donne che si sposano molto presto, quindi non finiscono i loro studi scolastici Soprattutto sull'accademia di queste donne hanno fatto tanti workshop che riguardano le questioni di femminismo e sulla comunicazione come accudere in famiglia per i nanati, i neonati, sulla salute delle donne su altre donne hanno fatto dei workshop per insegnarli di fare dei lavori da artigianato come riccani, lavorare da lana, in modo che non rosporano i loro prodotti e acquisire una minima di di un'unità inglese Spera che il futuro continuano a fare questi lavori e fare altri programmi per aiutare questa gente Ano un sito internet ma guardo soltanto la lingua inglese se qualcuno vuole vedere le loro lavori Ano un sito internet ma guardo soltanto la lingua inglese se qualcuno vuole le loro lavori Spera che gli amici E' un sito internet ma guardo soltanto la lingua inglese se qualcuno vuole vedere le loro lavori E' un'unità che viene da un villaggio piccolo che si chiama Kufr al-Badun E' dove vivono quasi 3.000 abitanti è vista dalla città di Napoli quasi 16 km la forza di occupazione israeliana ha occupato quasi 60 ettari di terreno del villaggio per fare la colonia il nome della colonia è Carmin quando hanno fatto la colonia hanno chiuso la strada del cerale che porta dal villaggio di Café Cadouma a Napoli e ora sono costretti di fare strada alternative lontane 27 km da Napoli siamo noi non a fare molti di istitare come se uno ha chiesto di eserro all'argo sopra molto delle colonie come si può essere giro a ridare il suo terreno che viene vedito La chiusura della strada ha causato tanti problemi economici e sociali alla gente La popolazione di Vellagio ha deciso di fare delle amministrazioni settimane e uscire tutte le settimane per richiedere le regole della strada Sono stati affrontati con metodi oppressivi incredibili da parte dall'esercito israeliano e con la media internazionale e anche nazionale che non dava peso a questi accadimenti Qualcuno ha avuto problemi di salute a causa di fumo e di lacrimogeni Non posso più fare bambini e di problemi dell'infidelità Tantissimi bambini non possono più controllare gli urinari Quindi A causa dell'attacco delle forze militari israeliane quasi tutte le sere alle case La storia di un'attacco delle forze militari israeliane E' un'attacco delle forze militari 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 Ringraziato Ringraziato Dio con i suoi figli E' riuscito a smascherare e far vedere la realtà E' un'attacco delle forze militari 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 Il significato del nome del bia vuol dire che sta a sud, quindi il suo vettaggio sta a sud di Napoli. Noi abbiamo un biappone, c'è 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 un biappone. Nel biappone non c'è l'acqua, una volta c'era un bosso d'acqua artesiano e come avete visto nel film dal bosso c'era un tubo d'acqua che portava l'acqua dal bosso al centro del biappone dove la gente veniva a prendere l'acqua. C'è un biappone, c'è un biappone, c'è un biappone, c'è un biappone. C'è un biappone, c'è un biappone, c'è un biappone, c'è un biappone. C'è un biappone, c'è un biappone, c'è un biappone. C'è un biappone, c'è un biappone, c'è un biappone. Il nostro problema principale è non solo del suo villaggio di Astrapatria o di Nablus o di Capatum o Ramallah o qualunque altro posto in Palestina. Il grande problema è che sono sotto l'occupazione, un esempio unico nel mondo dove c'è un paese occupato. Ma nel resto del mondo la gente parla di democrazia e di diritti umani. Abbiamo questo grosso problema di occupazione. La tema è anche delle persone marginate che non possiamo non ricordarci di loro in ogni caso. Chi sono i diritti umani palestinesi nel carcere israeliano? Il nostro paese è stato un paese che hanno bisogno di operazioni chirurgiche molto importanti. Ci sono anche 85 dei diritti umani che hanno avuto dei handicap permanenti a causa dell'incoratezza e del servizio sanitario che trovano nelle carcere. Noi, abbiamo 16 sarci in Ablusinessi, un paese di romORE, abbiamo un paese di rormale in cui è lo stesso e dà riunioni più oltre. Il nostro paese è un paese di roma dove sono giudizare il diritto e il diritto di roma. Noi, il nostro paese è un paese di roma. Noi, abbiamo visto che hanno come un paese di roma sia un paese di roma? Noi, la vita di roma. Noi, come un paese di roma, sono un paese di roma. Quindi si è un paese di roma rimani. ma qualunque cosa fa male del sole, la schiena, la testa, l'unica cura che descrivono quella di prendere la schiena ci sono anche 25 di temuti che soffrono da temori e c'è un di truppa che si chiama Vodas in Raddad che sta morendo e non vogliamo rilasciarlo prima di completare la sua condanna che sono rimasti 16 anni da finire la sua condanna sta muovendo e dal anno 60 all'inizio, fino alla fine ovviamente l'azirazione si è diventata 204 e 38 e l'ultimo era il mio saluto e 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 il mio saluto il mio saluto e il mio saluto tra i detenuti dal 67 a oggi sono morti da marchi di tanti sono morti di 280 di turnumotì tra questi l'ultimo è morto ormai sarà Abu Ghraib Direttore della spazia e dell'Arabat Direttore della giheraldata e di Hassan Travi Grazie a tutti ma noi ricordiamo un'altra parte che ha avuto il palestino che ha avuto il palestino e che ha avuto il palestino grazie a tutti grazie a tutti che considerano una di noi e la sua presenza era l'unica parte che viene da fuori che vede cosa accadeva nel nostro villaggio ti ringraziamo per la vostra presenza e qui nella colazione quelli che soffriamo sono veramente lunghi se cominciamo a parlare non crederemo mai vi ringrazio applausi 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 se ci sono interventi domande applausi posso? presumibilmente cosa potrebbe accadere ai coloni che hanno dato fuoco al campiere? presumibilmente applausi e c'è tanta gente che hanno subito gli attacchi di coloni hanno subito gli attacchi di coloni alle loro case si sono riusciti agli attacchi di coloni israeliani c'è alcuni coloni che hanno condannati le baiari 2 euro a 10 euro le baiari fetti 2 euro come condanna un altro che deve pagare un shaker quindi meno di meno al mese questi sono temporali israeliani cosa dovremmo aspettare? ma sono molto più bravi a condannare i baiasterezi non a condannare loro tra le politiche con cittadini una famiglia del nostro villaggio dove hanno attaccato la casa dato fuoco rotto le finestre ha preso con le camere i coloni israeliani mentre attaccano casa quindi la roba c'è ha preso la sua telecamera e andata al cerco della polizia di Belil per denunciare questi coloni hanno lasciato aspettare fuori sotto la pioce dalla mattina fino alla sera hanno preso le tre camere e alla fine li hanno mandati via non li hanno nemmeno ascoltati non ci sono chi protegge il nostro diritto di Belil scusi non c'è la parte del polizia non c'è nulla polizia nel tribunale niente nel palestini non c'è scolta o non c'è scolta non c'è scolta non c'è scolta la scolta la scolta la scolta la scolta è scolta l'autonomità nazionale che secondo gli accordi d'Osto che hanno diviso territori A, B, C che è una specie di controllo diverso all'interno A dove vuol dire che il territorio sotto il controllo militare e civile israeliano mentre la zona B controllo militare israeliano civile palestinese la zona C controllo militare e civile palestinese loro vengono la zona C quindi dovrebbe essere insieme a controllo militare e civile di palestinese nello stato attuale controllo palestinese soprattutto all'interno delle grandi città noi, che non ci sono stati se si avessi quindi se si avessi a fare in casi all'inistitazione o in casi all'inistitazione o in casi all'inistitazione non si avessi a fare se inoltre li vedranno bisogna fare una città della città ma non vogliamo rimanerare bisogna fare un'annunzio con il metodo dell'arivazione che sono in grado di casa perché inoltre inoltre è un'attività un'attività ma è un'attività loro si trovano nella zona C, forse ho spiegato male, la zona A che dovrebbe essere sotto il controllo civile e militare palastinese, la zona B sotto il controllo militare israeliano, civile e palastinese, la zona C sotto il controllo militare e civile israeliano. Quando accade qualcosa nel loro villaggio, se ci sono dei problemi con i coloni o con i previ, prima la polizia palastinese non può uscire, non può intervenire, perché sono nella zona C. Mentre quando accadono dei problemi civili, tipo una lista tra la popolazione, un crimine civile che non c'entra con i coloni o con i previ, quindi il problema intero palastinese, possono intervenire la polizia israeliana palastinese, ma devono mettersi in contatto con l'ufficio di commissione, con l'ufficio di comunicazione è stativa piña, ma non c'entraowa che noi stiamo mal subito, una massima calma per runter spiegare capito naturalmente. per fare cose come qui, per fare un'altra domanda per fare un'altra domanda per fare un'altra domanda perché la domanda ha detto a volte che l'unico deve fare un'altra domanda per fare un'altra domanda per fare un'altra domanda quando accadono degli attacchi sulle proprietà, sulle case la gente deve andare lì in quell'ufficio di di comunicazione c'è una relazione che emette in comunicazione la parte israeliana e la parte holastanese e devo registrare che è accaduto l'attacco in modo che gli avvocati possono utilizzare un registro che è accaduto e con l'attacco in quella zona che lo utilizzano gli avvocati per fare la causa e che ci sono le parole sono chi ha detto su questo e ci sono che è che di israeliani a seconda della legge di rivoluzione, i tribunali israeliani possono condannare israeliani e palastanesi. I tribunali palastanesi possono condannare soltanto palastanesi e che si trovano sotto una loro giurisdizione. Se il palastanesi non si trova nella zona sotto una strada palastanesi, nonostante sia di cittadino palastanesi, i tribunali palastanesi non lo possono condannare. Per quanto riguarda il detenuto, c'è anche un problema che riguarda la detenzione amministrativa. La detenzione amministrativa che possono mettere la persona in carcere senza condannarlo. Quindi soltanto sul dubbio che una persona abbia fatto qualcosa senza tribunali, senza processo, senza nulla lo mettono in carcere. In realtà questa detenzione amministrativa dovrebbe essere, secondo la legge israeliana, solo al massimo di tre mesi. Ma ci sono persone che hanno passato nove anni, che tredici anni, 5 anni continuativi in carcere senza essere accusati di nulla, senza avere un processo, senza avere una condanna. ogni tre mesi, ogni tre mesi, questa detenzione veniva rimuovata. Per quanto riguarda una giornata in carcere? Ci sono persone che magari sono stati condannati per avere un problema amministrativa, hanno finito il loro carcere, e quindi la loro condanna. E stavano uscendo dalla porta della prigione all'uscita della prigione, sono stati ripresi di nuovo e messi in carcere perché li hanno messi di nuovo in una detenzione amministrativa. Quindi insomma dopo aver finito la loro condanna sono tornati in carcere. Ci sono persone che stavano tornando a questa loro condanna in carcere, le hanno amministrativa su un chip coin, che le hanno l'olivore, tra l'olivore, tra l'olivore. Non è tutto. Non è senza cosa. Come stai messo? No. Quindi su tribunale israeliani per condamnare il colore israeliani non troppo non ci sono. Inoltre, noi non c'è il Damesh con il Yahud. In Falastin, il Falastin ha avuto l'Ussur. Il Daudi è un mercato, il mercato, la dina del Musenni, del Messie e del Yahud. Faccio un commento mio per sfatare il mito che Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente. Se non i tribunali non condannano coloni agrestili in questo modo, il nostro problema non è con i prei. La Palestina storica è un posto sacro per le regioni umilistiche musulmani cristiani e i prei. Il nostro problema è con i messiunisti. Qual è l'Ussur? per il Consolato Italiano di Palestina. C'è il colloquio? E il colloquio? Giurusalemme? Giurusalemme Non provo contrario a Giurusalemme Giurusalemme Forse in Giurusalemme è Obris, perché sotto il controllo No, comunque per andare a Giurusalemme Per andare a Giurusalemme Per andare a Giurusalemme devi passare da Klandia Dal checkpoint che abbiamo visto O da Isma, su due checkpoint C'è loro che non passavano al checkpoint Per raggiungere i problemi Anche l'affatto per l'affatto Le hanno avuto stacco dei problemi Per arrivare al Consolato Al 1.200 euro Quasi 300 euro Per arrivare al Consolato E avere visto che vi è arrivato C'è l'affatto Sì Ma nehmà C'è l'affatto C'è l'affatto C'è l'affatto C'è l'affatto io ho sofferto tantissimo per arrivare a Giuseppe per aver visto chi con la strada che sono 10 minuti dal cerco di Talantia alla forte di Giuseppe di solito sono 10 minuti loro hanno messo 4 ore hanno scelto di agirare checkpoint quindi cercare di fare la strada senza ricargli a checkpoint che è stato molto difficile scusa io mi sono dimenticata di dire cosa è successo per le ruote digitali e la nostra consulatrice se vedi il basso che mi sono accaduto il basso che mi sono accaduto per non ho accaduto in quattro i basso il basso che mi hanno scelto di un problema di attraverso il basso io ho provato un problema di mettere il mosso perché io ho fatto un numero medio medio di tagliato io ho fatto un ruote e io ho trovato un bulloso Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.